Oggi per la rivista State of Mind intervistiamo Matteo Selvini che è responsabile della scuola Mara Selvini Palazzoni. Partiamo con la prima delle otto domande standard. Possiamo dire che ognuno di noi ha dei principi clinici e teorici che ritiene irrinunciabili o almeno molto importanti per orientarsi ed effettuare il lavoro clinico. Quali sono i suoi? Diciamo che ce ne sono diversi ovviamente, però pensando a questa domanda ho pensato di puntare su quello che mi sembra veramente quello fondamentale, pensando anche alla mia storia personale e direi che quello fondamentale è il benessere del terapeuta stesso, in fondo la terapia si basa sul fatto che il terapeuta deve stare bene e deve avere quell'equilibrio necessario a reggere anche lo stress, che a volte è notevole, la frustrazione, l'impotenza, una serie di fenomeni che fanno parte della professione. Quindi credo che questo per me sia stata una cosa molto importante, ma l'ingrediente che vorrei sottolineare come fattore di benessere che è stata molto importante per me è che forse anche casualmente mi è successo che nello stesso anno, l'83, ho formato un'equipe con Stefano Cirilli e Maria Sorrentino e nello stesso anno mi sono anche sposato e diciamo questo matrimonio duro è piuttosto bene tuttora, così come l'altro. Io credo che per quello che ho potuto fare come terapeuta è stata una componente molto importante, cioè il fatto di sentire un sentimento appunto di appartenenza, di sostegno, di fraternità, di solidarietà in tutto quello che è lo stress della professione sia a livello professionale, cioè avere una buona famiglia professionale, una buona famiglia personale, penso che sia la base della psicoterapia e per questo soprattutto un terapeuta debba lavorare anche nella sua formazione per avere davvero questa base sicura. Come realizzarlo? Che è appunto per la seconda domanda che si anticipo, ma chiaramente sono tanti gli ingredienti di realizzare questa alchimia difficilissima. diciamo che per noi ovviamente si può passare anche attraverso il classico lavoro individuale su di sé. Per noi la particolarità della formazione che noi siamo un po' inventati come scuola in questi anni è stata quella di puntare molto su un lavoro di gruppo anche dal punto di vista dell'autoconoscenza. E allora una cosa anche interessante che ho avuto la fortuna di fare, sempre a proposito anche della mia famiglia professionale, è stata che quando un po' di anni fa, ormai quasi vent'anni fa, abbiamo fondato la scuola di psicoterapia e abbiamo cominciato a proporre agli allievi di fare per 4-5 anni della scuola un percorso che abbiamo chiamato di genogramma, cioè di autoconoscenza, abbiamo pensato che non potevamo proporre agli allievi qualcosa che noi non facevamo. Quindi abbiamo fatto anche noi stessi un gruppo di autoconoscenza che in qualche modo dura tuttora, si potrebbe dire in un certo senso, anche se non in modo probabilmente formalizzato. Diciamo, per me è stata un'esperienza molto bella e questo fatto, come dire, di condividere, eravamo amici anche prima con Cirilla Sorrentino ovviamente, magari andavamo anche a pranzo a cena assieme, però avere proprio anche condiviso un'esperienza proprio strutturata di confrontarci sulle nostre storie è stata una cosa molto bella che ha consolidato questa nostra famiglia professionale. Poi abbiamo fatto anche gli allargamenti multifamiliari, perché l'altra nostra, diciamo, marchio di fabbrica è di pensare che così come chiediamo ai nostri pazienti di coinvolgere le loro famiglie è un'esperienza che dobbiamo fare anche noi stessi su noi stessi e in questo percorso i miei genitori non c'erano più ma avere potuto coinvolgere mia sorella e mio fratello è stata una cosa molto significativa per me. Questa esperienza, se non sbaglio, è raccontata nel libro La Nascita di un'opera. Esatto, sì, sì, esatto, un libro che è appena uscito, ho raccontato anche più in specifico, qualcuno se vuole andare a leggere, l'esperienza specialmente con mio fratello era particolarmente drammatica, però mio fratello è mancato pochi mesi dopo, e allora era particolarmente commovente per me di pensare, è stato, diciamo, l'ultimo momento di contatto così intimo forse quasi l'ultimo, insomma, con mio fratello, mi tocca particolarmente, diciamo. Ok, questi principi si traducono poi in tecniche specifiche nel lavoro clinico? Eh sì, esatto, poi questi principi effettivamente, questo tema, diciamo, della parte, la grande nostra polemica, diciamo poi, anti altre scuole, anti psicanalitica, direi soprattutto, è sempre proprio su questa specie di, di quanto noi diamo valore al tema dell'appartenenza e quindi alle relazioni familiari, coniugali, come una risorsa, no? E quindi questo è effettivamente una parte fondamentale del nostro lavoro, cioè, chiederci sempre quale tipo di apporto, io sono d'accordo con quello che sostengono, sentivo l'intervista di Maggio, diceva, mi mette come primo principio il fatto che riuscire a entrare in contatto con il paziente e l'alleanza terapeutica è un criterio fondamentale, e sono totalmente d'accordo, però contemporaneamente lavorare per valorizzare, per quello che possono dare le relazioni coniugali, familiari, della fratria, del paziente, noi crediamo, io credo che sia veramente una cosa fondamentale, e purtroppo invece vedo spesso i guasti di un lavoro che ci centra solo sull'individuo, e specialmente con bambini e adolescenti, io, ma vi sarà anche, anche noi magari, come capita a tutti i colleghi, riceviamo spesso i casi che sono stati falliti da altri, questo probabilmente dà anche una deformazione della visione, però è veramente, io a volte mi indigno quando vedo bambini specialmente o ragazzini trattati per anni e anni da colleghi che hanno fatto centinaia e centinaia di sedute, dove quello che si è ottenuto purtroppo è una grave istigazione contro il genitore, una grave barriera, perché è come se il terapeuta proponesse una pseudo-affiliazione, adozione, che poi non realizzare, distrugge la relazione familiare e poi lasciare macerie dietro di sé, questo secondo me è un problema dell'iaterogenità, del carattere, chiamo iaterogenico, di quello che succede da sempre, però nella casistica infantile e adolescenziale, credo che sia un fenomeno abbastanza diffuso, secondo me non andrebbero fatti più attenzione, più ricerche su questo fenomeno, c'è da troppe volte di vedere lo psicoterapeuta in livello di turno che fa l'accanito fautore del suo paziente e si scontra pesantemente con i genitori, questo è un fenomeno gravemente patologico che cerchiamo di evitare, nel senso di puntare sulle risorse positive di quello che i familiari possono dare, naturalmente non è sempre possibile, le risorse possono essere eccezionali o scadenti, per carità esistono anche i casi in cui dobbiamo aiutare i pazienti a parte di distanza dei familiari, però non come un a priori, non che a priori si punta sulla separazione, anzi al contrario, diciamo anche più teoricamente, magari dopo questo lo riprendiamo a proposito dei pazienti difficili, se partiamo dal punto di vista che la base della patologia è quasi sempre una disorganizzazione dell'attaccamento, è chiaro che una qualche forma di riabilitazione del legame di attaccamento è una base fondamentale della psicoterapia, non si può pensare che sia solo il terapeuta la base sicura, questo è assurdo, noi dobbiamo aiutare i pazienti a costruirsi delle cordate di sicurezza, pensare di buttare tutto questo sul terapeuta o anche sul povero partner in casi di persone post-traumatiche molto difficili è assurdo, quindi il tema per noi di creare un'accordata appunto di sostegno ai pazienti più difficili e di riabilitare gli attaccamenti più possibili è uno degli obiettivi fondamentali della terapia. Bene, per noi terapeuti è importante monitorare e valutare il cambiamento, lei adotta delle procedure per fare questo? Ma sì, in questo senso diciamo noi abbiamo fatto tante cose, perché effettivamente quando già tanti anni fa eravamo convinti specialmente nel campo dell'anoressia dell'efficacia del lavoro familiare, credo che sia abbastanza dimostrabile che nel campo dell'anoressia, soprattutto più sono piccole le pazienti, sono appena riduce da una terapia familiare con una ragazza di 12 anni, sono quelle poche terapie che ti danno soddisfazione almeno dal punto di vista di vedere in poco tempo la svolta, perché una mamma che per un complesso ragione di fenomeni aveva rinunciato alla figlia, l'aveva ceduta alla suocera e al marito, quando l'abbiamo convinta che invece doveva riprendersi la sua bambina abbiamo avuto un risultato immediato, quindi la bambina in questo caso ha 12 anni, in questa fascia d'età sicuramente si vedono questi risultati particolarmente clattati, più l'età sale più naturalmente queste cose così trionfali, non sono proprio la regione ed è un lavoro più lungo e più duro, però credo che il cambiamento sia una cosa che vada misurata fondamentalmente attraverso la terapia stessa, noi abbiamo fatto anche delle ricerche di follow up e anche questo è interessantissimo, credo che nella formazione di un terapeuta vedere cosa è successo dei nostri pazienti 5 anni dopo, 10 anni dopo, 20 anni dopo, sia una cosa fondamentale perché ci dà un'altra prospettiva, finché lavoriamo sul mese dopo, sui due mesi dopo, secondo me abbiamo una visione troppo ristretta e quindi in questo senso autoeducarci, a mantenere dei contatti con i nostri pazienti anche negli anni, credo che sia una cosa molto importante e che ci insegna, che è un'autoformazione molto importante, noi l'abbiamo fatto e abbiamo visto delle cose molto importanti che proprio ci hanno anche aiutato a cambiare completamente il modello, per esempio nel follow up dell'ANORS che abbiamo visto che il modello tutto sommato funzionava, la terapia familiare dava una grossa mano ma che mancava tutta la parte individuale all'epoca, in quegli anni si faceva solo la terapia familiare e quindi questo ci ha parlato al modello attuale dove il concetto di integrare lavoro individuale e lavoro familiare è integrato al concetto di fondo, quindi per cambiare il nostro modello, questi follow up che abbiamo fatto a tappeto centinaia di ragazze tra gli anni 70, 80, è stato fondamentale e continuo ad esserlo assolutamente, nel corso della terapia, un po' come diceva anche Canerara in intervista, io credo che noi quello che cerchiamo di fare è non accontentarci di terminare la terapia ovviamente quando il sintomo è sparito, ma cercare di fare un accompagnamento perché è ovvio che noi dobbiamo valutare il cambiamento su alcuni parametri che non sono soltanto il sintomo, ovviamente il sintomo è una cosa importante, però sappiamo benissimo che può anche essere ingannevole, era sparito, ultimamente so, con una ragazza che aveva un sintomo molto specifico, che si strappava i capelli, cioè dopo due settimane di terapia dopo due o tre settimane del sintomo era sparito, ma io non ho visto nessun cambiamento, quindi io continuavo a dire sì, però il sintomo sarà sparito, però non si capisce perché, quindi non è che siamo molto contenti, infatti dopo forse sarebbe stato... è tornato tranquillo, no, è tornato tranquillo, ma era ovvio in un certo senso, ma perché noi dobbiamo vedere cos'è che dobbiamo valutare, è chiaro che dobbiamo valutare anche qual è il tratto di personalità, per dire l'esempio, questa ragazza ad esempio arriva in una forma di sottomissione, dipendenza dalla mamma e dal fidanzato, gravemente patologico, se io non vedo nessun mutamento di questo tratto di dipendenza, sottomissione, non usciva neanche a vent'anni a dormire da sola, costringiva la mamma a dormire con lei, se io non vedo questa cosa riusciamo in qualche modo a smuoverla, anche se non si strappa più i capelli, francamente non posso essere molto contento, e poi vabbè, una cosa simile però, in parallelo è chiaro che noi misuriamo anche, una volta che abbiamo fatto una diagnosi relazionale all'inizio, abbiamo visto che ci sono determinate cose che non vanno, come potrebbe essere questo, c'è questo super invischiamento, questa incredibile invadenza, mamma che non vive la sua vita, vive solo la vita della figlia, dobbiamo vedere dei cambiamenti anche a questo livello, quindi diciamo, in una visione complessa, noi valutiamo il cambiamento, secondo me, in itinere, e quindi chiudiamo la terapia, quando siamo ragionevolmente certi, magari, come diceva Canevaro, poi appunto facciamo una seduta fra tre mesi, poi un'altra fra sei mesi, però quando siamo certi che questi processi sui vari livelli viaggiano bene, concordamente, quindi sì, per un trattato di personalità, relazioni fondamenti, mostrano un cambiamento. La chiusura della terapia, invece, è un momento che si rispenderà più scontato, ma... La chiusura della terapia, forse ho già risposto con quello che ho detto adesso, direi, nel senso che in un rapporto, chiaro, ci sono tanti tipi di chiusure della terapia, è ovvio che ci sono anche delle chiusure delle terapie che sono dei drop nel momento in cui il paziente non segue le nostre indicazioni, e questo purtroppo è una cosa che succede anche dolorosamente. Diciamo, io adesso sto lavorando particolarmente su adolescenti, diciamo, con degli sviluppi traumatici, poi ne parlerò anche un po' di pazienti difficili, su cui sono innescati, innestati ulteriori traumi. Questa è una casistica bella, diciamo, so per dire, vedo ragazzino, faccio ad esempio uno dei fallimenti più dolorosi dell'ultimo periodo, che ha avuto uno sviluppo traumatico perché c'è stata una separazione molto pesante tra i suoi genitori, dove lui è stato coinvolto anche in violenze assistite piuttosto pesanti, poi c'è stata tutta la sequela delle accuse pesantissime della madre, del padre, di un effettivo malessere del padre. Quindi su questo quadro, già non propriamente idilliaco, si innesta la scena allucinante di quando il padre, il ragazzo e mamma, il padre non risponde più al telefono, sfondano la porta e tutta la descrizione della scena allucinante che questo bambino vede in quella casa appareva morto l'infarto in maniera molto drammatica. Questo mi sembra un quadretto abbastanza tipico, diciamo, c'è già uno sviluppo piuttosto traumatico sulla quale si... questo ragazzino reagisce con degli aspetti dissociativi molto importanti e molto spesso riuscire a fare un lavoro per convincere sia il paziente che la mamma, anche in questo caso, che va fatto un lavoro di elaborazione del trauma, risulta molto difficile e quindi qua appena si è ottenuto, per dire, è un caso... loro sommati via contentissimi perché prima si ammazzavano, a un certo punto andavano d'amore d'accordo, si erano addirittura separati in due case diverse, nonostante che lui avesse vent'anni. Dopo, quando si sono riconciliati, per loro la terapia era finita e se ne sono andati, noi non eravamo contenti per niente, perché la dissociazione del ragazzo era... non era riuscito proprio... aveva appena cominciato l'elaborazione del trauma, non gli hanno dato retta, quindi la chiusura... Ma non si era un accordo sugli obiettivi? Eh, non si era riusciti ad avere un accordo sugli obiettivi, loro erano in fondo venuti solo per quello, perché litigavano troppo, una volta che non litigavano più, per loro per me era uno stato parziale. Poi l'imperienza insegna che in queste situazioni magari per il paziente ritorno in terapia dopo anni... questo è un caso di chiusura abbastanza... e se no, è chiaro, come dicevo prima, la chiusura più classica, quella che è più idilliaca, è quando man mano, rallentando la forza della nostra presa in carica, vediamo che le cose continuano a rivolgere positivamente e quindi quando ci salutiamo... poi capita che ci salutiamo così e poi i pazienti ritornano ovviamente, in un momento abbastanza però, diciamo, succede. Però stai dicendo anche che buon esito della terapia dipende da una condivisione degli obiettivi iniziali. Sì, beh, questo tema della cooperazione, non parlavo prima di appartenenza e quindi appartenenza vuol dire avere un tema paritario di cooperazione, no? È chiaro che quando questo tema paritario di cooperazione è anche nel contesto terapeutico... diciamo la nostra caratteristica è proprio questa, di cercare di mantenere questa cooperazione non solo con il paziente, questa è la nostra cifra, ma contemporaneamente, cosa che effettivamente è anche vero che non è necessaria proprio con tutti i pazienti, è vero che in una casistica di persone ad alto funzionamento, con sintomi o senza sintomi, addirittura con dei problemi esistenziali, neurotici, non è, come descriveva che allevare la sua intervista, i familiari possono venire a dare un apporto che può dare invece una velocizzazione della terapia, un'esperienza significativa che aiuta, ma non è così fondamentale. In questo senso la diagnosi di gravità, e vediamo magari al paziente difficile, è una cosa molto importante, nel senso che quando c'è invece una gravità, cioè diciamo un disturbo della personalità, un sintomo importante, ecco che questo tema della doppia presa in carico, cioè lavorare in un'equip di almeno due terapeuti e con la collaborazione tendenzialmente di una terza figura medica o psichiatra, secondo che siamo più nel settore dell'anoressia o più di un settore diciamo di sintomi, psichiatra, è una cosa per noi assolutamente fondamentale e per tanti motivi, diciamo uno è quello a cui sono partito che quando lavoro in situazioni altrimenti stressanti, come mi capita, non so del ragazzino quindicenne che mi manda su whatsapp 50 foto di lui che sanguina, si è tagliato in tutti i modi e contemporaneamente i miei genitori mi dicono che sta benissimo e che è soltanto uno stronzo che si comporta male eccetera eccetera e lui mi vincola al segreto su questa cosa, è chiaro che sono situazioni estremamente stressanti dove lui magari in questo caso addirittura mi dice anche come sta progettando di assassinare i familiari, cioè situazioni pesanti dove questo fatto di avere appunto una forte appartenenza, il caso lo sto seguendo con Cirillo che so che posso fare riferimento ai colleghi per anche una presa in carico farmacologica che in questo caso reputo più che necessaria, è una cosa assolutamente fondamentale, ma poi soprattutto credo che quello che vedo molto importante per lavorare con questi casi diciamo io sono dell'idea che dovremmo abolire tutte le diagnosi tipo borderline, masochista eccetera per pensare che sia molto più utile pensare a tipi diversi di personalità post-traumatico, personalmente sto lavorando per costruire delle tipologie di personalità post-traumatico, mi sembra un'etichetta molto più giusta e molto meno stigmatizzante, penalizzante di quella di borderline che poi più o meno è diventato una specie di insulto diciamo, insomma, trovo che non abbia tanto senso, che invece proprio perché la terapia di questi soggetti parte dal riconoscimento che c'è stato uno sviluppo traumatico, anche il nome può aiutare a spingere in questa direzione che in fondo è il primo passo della terapia. E si parla di PTSD complesso? Sì, ma è già un po' più ambiguo, diciamo, perché è sempre un sintomo di S1, invece secondo me è fallo ragionare che non è tanto un sintomo di S1, non è tanto pensieri intrusivi o vincubi o che so io, ma che è proprio una deformazione della persona, poi ci sono anche i sintomi per carità, l'ottundimento, il vuoto eccetera eccetera, però diciamo far vedere che è una deformazione più complessiva, credo che sia una cosa molto importante e quello che credo che anche sia molto importante è che ci vuole veramente molta creatività per gestire un lavoro che sia sia individuale che familiare, cioè come dicevo prima, lavorare solo sull'individuale, francamente è riduttivo, non riesce per varie ragioni, tra l'altro c'è da permettere questo, in molti casi il paziente grave, se non ce lo portassero i familiari non lo vedremo assolutamente, quante volte questo ragazzino dicevo prima, comunque qualche pezzo di lavoro buono l'abbiamo fatto, ci sono portato di forza con lui che ci sputava in faccia, però questi sono sorprendenti, dopo due volte che mi hanno sputato in faccia mi manda segretamente tutte le sue foto, è classico dei riusciamenti di personalità di questi soggetti anche molto gravi, quindi questo dico, io credo che la ricerca anche al futuro sui casi difficili va molto nella complessità di integrare quello che si fa con l'individuo, perché non è scontato per niente, non è che ne possiamo seguire un protocollo, una seduta individuale, una seduta familiare, le cose sono molto più complicate, se vicende che ho visto ieri che è stato allontanato, messo in comunità dopo che ha compiuto vari reati, ma soprattutto i genitori sono dimostrati assolutamente incompetenti a gestirlo, ecco, ad esempio questo ragazzino nelle sedute familiari non mi dà niente, perché sembra di avere a che fare con un insufficiente mentale, veramente un tonto, molto tonto, e quindi sì, io vista questa cosa, nelle sedute, troverò delle altre strade, proveremo a fare una valutazione in maniera psicodiagnostica individuale, questo credo che sia molto importante, cioè che avere, diciamo, partire dal concetto che ci vuole un'equipe, che bisogna in casi come questo poi l'equipe si allarga con tutti gli educatori della comunità, il CERT che lo seguo, eccetera, eccetera, ma ci vuole molta creatività nell'inventarsi come mettere assieme tutti questi strumenti, non è che possiamo avere una pratica standard, facciamo sempre la stessa cosa, perché ci sono altri casi dove invece la seduta familiare esalta il protagonismo dell'adolescente, l'adolescente che magari nelle sedute individuali sarebbe mutacico, invece che magari soltanto perché si incazza col padre o con la madre tira fuori, questo qua no, quello di ieri mi ha fatto cadere le calze perché la mia domanda mi rispondeva boh, o quante voi ha, insomma, no, e quindi lì dovrebbe inventarci qualcosa, attivare il protagonismo del paziente è sempre fondamentale, ma come in certi casi non è la seduta familiare, quindi in questo senso penso che il tema, e poi questo tema che i colleghi si abitano all'idea che l'equipe deve essere fatta da uno che ha più, perché l'alleanza anche individuale col paziente è importantissimo quando realizzarne naturalmente, quindi uno che cerchi anche proprio affettivamente di realizzare un vincolo particolare col paziente, ma che abbia a fianco qualcuno, che abbia l'occhio sulla famiglia, sull'alleanza con la famiglia e poi si lavora insieme, no, non tipicamente facciamo, ora beh, le sedute individuali le facciamo da soli ovviamente, però le sedute familiari le facciamo quasi sempre in equipe, in co-conduzione o dando lo specchio e, insomma, questa supervisione che, quando io faccio l'esempio come faccio spesso nelle terapie individuali di adolescenti, questa supervisione che mi viene non da un esterno che sente soltanto parlare a me, ma da un collega, tra l'altro voglio anche bene, come dicevo prima, ma che conosce bene me, ma che conosce anche la famiglia e anche la ragazza, perché abbiamo fatto anche le sedute famiglie, io credo che sia la forma più efficace di supervisione che ci possa essere nei casi difficili insomma. Bene, la terapia individuale sistemica invece, quanto e quando può prescindere dal coinvolgimento dei familiari significativi? Torniamo in modo che si chiedeva, no? Beh, diciamo che quando, è semplicemente il caso di quando o non riusciamo ad avere, capita raramente, ma può capitare di non riuscire ad avere i familiari, è un brutto segno, a me quando è capitato, tra l'altro tipicamente non si riesce a capire se davvero i familiari non vengono, se in realtà il paziente che non li vuole davvero portare, è un segnale più, per me non lo sentivo, soprattutto un segnale prognostico molto negativo, perché non ci sarebbe ragione, poi vabbè esistono invece anche altre situazioni dove l'allargamento serve soprattutto a elaborare un lutto, a vedere che ci sono risorse molto modeste, però è comunque una cosa molto utile, anche se magari l'esperienza dell'allargamento in sé non è particolarmente esaltante, però è chiaro che comunque è un'esperienza significativa che perlomeno può aiutare ad accompagnare il paziente nell'accettare determinati limiti dei suoi genitori, che questo può fare parte assolutamente importante del lavoro, quindi tendenzialmente non c'è mai un'indicazione a prescindere, a meno di casi assolutamente specifici dove, che esistono per carità, dove l'allargamento è controproducente perché scatena ad esempio delle aggressioni, siccome il criterio numero uno, specialmente delle sedute familiari, la cosa non è scontata è che nessuno può essere attaccato, deve essere un luogo sicuro, la seduta, beh ci sono casi dove io non mi azzardo a fare gli allargamenti oppure dove li devo bloccare in fretta e furia mandando fuori qualcuno dalla stanza perché la seduta non è più un luogo sicuro, diventa il luogo dove qualcuno avvenisce a qualcun altro anche pesantemente, allora c'è una bella controindicazione, poi non lo so, non si può neanche sapere in precedenza, a volte devi fronteggiare l'emergenza, infatti mi è capitato di avere anche delle punte esperienze perché sono stato travolto da questi tipi di fenomeni e poi col segno di poi magari ho detto magari dopo, cavolo ma dovevo interrompere dopo 20 minuti, ma non sempre si ha questa velocità decisionale presenza di spirito, poi ci sono altre situazioni chiaramente dove, non so, c'è qualche gravissimo segreto, non so se io vedo, per dire un caso che ho visto recentemente in supervisione dove c'è stato un grave abuso sessuale su questa bambina che adesso è diventata una gravissima paziente tossicodipendente, la seduta familiare, i manifesti, i miei genitori non hanno elaborato sensatamente questa cosa, tutto sommato probabilmente anche se me lo dicono pensano che si sia inventato tutta, che non sia vera questa storia, allora la seduta familiare poi si va a vedere negli effetti assolutamente nocivi, perché quindi ci possono essere anche dei casi in cui bisogna stare attenti che la seduta familiare non sia ritraumatizzata, quindi ad esempio in caso di gravitarmi come questo può essere, non è il punto di partenza ci sarà un interesse familiare, ma è un punto dell'arrivo, ci dobbiamo arrivare quando siamo sicuri che il paziente non sarà ritraumatizzato, quindi è uno strumento potente della seduta familiare, ma questo tema di quando è indicato, di quando potrebbe essere controindicato non va assolutamente sottovalutato. Ok, ultima domanda riguarda l'integrazione con gli approcci non sistemici, cosa ne pensa, se l'hai effettuata in prima fase? È stata fondamentale, perché io sono proprio, vengo ancora della generazione come dicevamo prima, la nostra equip, come dicevo, si è formata 30 anni fa, e 30 anni fa si è formata però come collaboratori in posizione gerarchicamente subordinata di mia mamma, che era appunto Mara Selvini Palazzoli, che già all'epoca era una nota psicoterapeuta, aveva già scritto dei libri importanti, tradotti in tante lingue, eccetera, e quindi siamo nati, ma questa cosa comunque c'è anche un po' come allievi, noi eravamo giovani, e questa è stata la partenza, ma era un momento ancora molto fortemente sistemico, dove fondamentalmente lavoravamo già da allora con casi difficili, con anoressia, con se così, ma si puntava fondamentalmente il modello, era più o meno le dieci sedute familiare, modello classico di terapia breve, stile palo alto, stile Bazzoli, e quindi tutto il mio percorso in realtà è stato proprio segnato dal fatto che questo modello ci ha insegnato delle cose, ma era assolutamente riduttivo, e quindi bisognava integrarlo soprattutto con degli strumenti di presa in carico individuale, e quindi effettivamente abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo lavorato per tanti anni ad esempio con un gruppo di psicanalisti, in cui abbiamo imparato come integrare le terapie familiari con degli interventi di terapia individuale e psicanalitica, poi vabbè, è chiaro che abbiamo cominciato, come dicevo prima, noi stessi a dividerci, e quindi nel momento in cui faccio il terapeuta, anche il terapeuta individuale, mi alterno un po' le due ruole, perché questa è poi la mia vita professionale, come terapeuta individuale cerco di imparare il più possibile anche con i colleghi cognitivisti, e da qui è nata tutto uno studio di quello che possono essere ad esempio i lavori del gruppo di Severari, che abbiamo invitato tante volte, e quindi poi ultimamente ci siamo molto buttati su approfondire tutto quello che viene dal mondo appunto degli studio dei traumi, e quindi tante cose, il lavoro di Leotti poi l'abbiamo sempre utilizzato, quindi io credo, ho cercato di fare sulla mia pelle un grosso lavoro di integrazione, poi ultimamente abbiamo integrato anche l'MDR con una tecnica che fa parte proprio della formazione standard, quindi se per esempio questo modello, anche noi docenti abbiamo fatto tutto il corso MDR, poi lo proponiamo anche ai quali all'esterno del quarto anno, quindi in questo senso credo che questo discorso di integrare l'approccio con altri approcci, imparando dagli altri sia una cosa che debba continuare per tutta la vita professionale, anche se magari dopo una certa età effettivamente diventa magari un po' difficile riuscire a fare veramente propri determinati strumenti che hanno un'altra, vabbè, però... il lavoro di integrazione è una battaglia che cerco, sì, se devo usare l'MDR, non è che proprio mi viene facilissimo di cambiare cappello, però ci ho provato qualche volta, forse è una buona tecnica per non invecchiare troppo, quella di cercare di rinnovarsi fino in fondo, e non smettere mai di cercare di imparare qualcosa, di cambiare qualcosa nel nostro modello di lavorare, di mettersi in discussione. Va bene, grazie. Bene, grazie mille, mi piaceva.